Le politiche del lavoro e le nuove misure a sostegno dell'occupazione messe in campo dal governo sono state al centro dell'incontro organizzato dal PD toscano con il ministro del lavoro Giuliano Poletti alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia, alla presenza del segretario regionale Dario Parrini e la partecipazione di alcuni dei candidati democratici alle prossime elezioni europee e amministrative. Al centro del dibattito gli effetti attesi sulla ripresa economica del decreto lavoro varato dalle Camere e in particolare dei nuovi contratti a termine. Adesso le aziende non hanno nessuna ragione e nessuna scusa, diciamolo in questo modo, se vogliono assumere possono farlo, hanno una legge che consente loro di decidere in maniera tranquilla e di avere davanti 36 mesi per verificare, sperimentare, provare, quindi io credo che abbiano tutte le condizioni per assumere. Da un sistema di regole più semplice traiamo molti benefici, compreso quello di riuscire ad aiutare più efficacemente le tante aziende, medie e grandi, ma non soltanto medie e grandi, che si trovano in difficoltà e che hanno bisogno di strumenti flessibili per essere sostenute nella ripartenza. Presenti all'iniziativa anche alcuni lavoratori della Seves che hanno avuto un colloquio con il ministro sulla situazione di crisi aziendale dopo l'annuncio dell'invio delle lettere di licenziamento a partire dal 13 giugno prossimo. Grazie.